Raga, allora, speriamo che mi credete, ho visto una navicella spaziale passare facendo questo tratto qui, ma ti sento raga come una normale stella che tipo ha fatto questo tratto qui. Io credo che sia una navicella, è andata da sud verso ovest, e praticamente ho detto no, ma sarà una stella cadente, però si muoveva troppo veloce, la stella cadente bene o male si muove a velocità media, ed era raga super alta. Io credo che su TikTok se ne parla molto su TikTok e YouTube di questa stella, tipo questa navicella che passa ogni 90 minuti, io ho visto passare da qui, per tutto questo tratto, e poi qui non l'ho vista più. Speriamo che voi mi credete raga, lo spero perché è una cosa vera. Io all'inizio ho detto è una stella cadente, però poi ho visto ma si muove tra, cioè ma si muove troppo veloce, è impossibile, la stella cadente bene o male si muove a velocità media, ma era troppo veloce. Raga per questo video è tutto, se vi è piaciuto tanti like, ciao alla prossima. Grazie a tutti.